idea web con roberto borghese mister del narzole prima giornata di campionato narzole sconfitto per 3 a 0 in casa della morgale mister una partita difficile su un terreno di gioco anche molto allentato dalla pioggia come come l'hai visto e come pesante la prima di campionato un risultato che è venuto un po rocambolesco nel senso che più che tutto abbiamo subito due gol su pallina attiva che a volte anche un po il nostro forte quindi è un po spiaciuto aver subito due gol il terzo è arrivato in maniera molto rocambolesca è vero che sul 2 sul 2 a 0 abbiamo avuto una palla per fare il 2 a 1 probabilmente qualcosa sarebbe ancora cambiato però così non è stato abbiamo pagato a caro prezzo con ingenuità direi un risultato forse un po tanto rotondo però dobbiamo anche prendere quello che di buono è stato in questa partita ci sono state delle buone giocate siamo arrivati a cacciare in porta diverse volte quindi sicuramente c'è da mettere a posto qualcosa si è vero però incontravamo anche una squadra sicuramente tra le favorite e l'autore del campionato quindi bisogna anche fare ponderare il tutto e lavoreremo per domenica prossima ecco una formazione la tua che magari a differenza anche della morgale si conosce forse ancora un po meno anche il livello di meccanismi magari anche questo può aver influito sul risultato finale un pochino anche sul gioco questo sicuramente sì ma è dall'inizio dell'anno che non per trovare alibi io dico spesso che sicuramente il fatto che ci sono tantissimi componenti nuovi nella rosa e quindi poi alla domenica in campo è sicura normale che questo poi influisce anche su sull'esito della partita oggi per esempio mi sembra che fossero fossimo però 8 9 undicesimi ragazzi nuovi che quindi hanno si conoscono da un mese quindi comunque non è così scontato però ripeto non vuole essere un alibi e comunque devo lavorare su questo e cioè dobbiamo cercare tutti insieme di migliorare ecco un'ultimissima domanda per gli scherzi del calendario rincontrate la monregale fra tre giorni per la terza volta in dieci giorni pensi di confermare quanto si è visto oggi quanto vi importa quanto è importante per il narzore la coppa ma su questo non mi esprimo troppo nel senso che non so bene ciò che che andrò a fare mercoledì sicuramente la coppa un suo peso però inevitabile che dobbiamo dare comunque più importanza al campionato quindi vedremo se utilizzerò la partita di mercoledì un po come una sorta di allenamento per provare anche alcune giocate o se invece magari sarà modo di far rifiutare qualcuno da domani da domani inizierò a pensare anche a quello